Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura un drammatico incidente stradale si è verificato poco prima delle 14 a Levane nel comune di Montevarchi. Nell'impatto sono rimaste coinvolte un'auto e una moto e il motociclista è finito rovinosamente a terra. L'uomo, una 54enne, è stato soccorso, poi portato con il Pegaso all'ospedale Lescotte di Siena in codice rosso. Troppo gravi però le ferite riportate. Il centauro è deceduto. L'esatta dinamica dello schianto adesso è al vaio dei uomini della polizia municipale. Torniamo a parlare della morte di Cinzia Patricolo, deceduta all'ospedale San Dorato di Arezzo dopo 17 ore di agonia. Il giudice civile della tribunale di Arezzo adesso ha condannato Asla e i due medici a risarcire i familiari della 47enne. Cinzia Patricolo aveva 47 anni quando morì dopo 17 ore di permanenza al pronto soccorso dell'ospedale San Donato per una diagnosi sbagliata, secondo quanto stabilito dal tribunale di Arezzo che ha condannato l'Asla e i due medici a risarcire i familiari. Una sentenza che arriva a 7 anni dalla tragedia. Era infatti il febbraio del 2017 quando la donna arrivò in ospedale con forti dolori al ventre. Fu curata per una pancreatite mentre si trattava di un'occlusione intestinale che nel giro di qualche ora dall'accesso al pronto soccorso portò all'arresto cardiaco e poi alla morte. La famiglia, assistita dall'avvocato Donata Pasquini dopo il decesso, presentò un esposto alla procura e fu così aperta a un'inchiesta. Il processo penale si concluse con l'assoluzione perché il fatto non sussiste di due medici finiti a processo per omicidio colposo, mentre adesso il processo civile sancisce in prudenze omissioni di imperizia nell'accertamento e cura ed impone risarcimento all'azienda sanitaria e insolito ai medici che seguirono la donna verso genitori, sorella e compagno di Cinzia. Desidero esprimere a mio nome e della mia famiglia la nostra soddisfazione per la sentenza emessa dal tribunale di Arezzo, scrive sui social il cognato Angelo Rossi. Questo verdetto rappresenta un'importante conferma della giustizia e della verità che abbiamo cercato istancabilmente per sette anni. La decisione del giudice non può ridarci Cinzia, ma rappresenta per noi un passo fondamentale verso il riconoscimento di quegli errori che hanno portato alla sua prematura scomparsa. Spero che questa sentenza possa contribuire a prevenire simili tragedie in futuro. Adesso il caso di Davide Pecorelli, la Corte d'Appello di Perugia ha dato l'ok all'estradizione. La Corte d'Appello di Perugia ha accolto la richiesta di estradizione di Davide Pecorelli in Albania. L'imprenditore Alto Tiberino, titolare di un'attività economica anche a Sansepolcro ed ex arbitro della sezione Aia di Arezzo, destinatario di un mandato di arresto internazionale emesso dal tribunale di Puche, è stato recentemente condannato a quattro anni di reclusione, corrito abbreviato per i reati di truffa gravata, profanazione di tombe, intralcio alla giustizia, distruzione delle proprietà tramite incendio e attraversamento illecito della frontiera. Pecorelli ad inizio 2021 si finse morto carbonizzato in Albania, per ricomparire poi, pochi mesi dopo, nelle acque del Tirreno, alla ricerca di un tesoro sull'isola di Monte Cristo. Per i reati di cui era accusato in Albania era stato sottoposto ad arresto provvisorio in Italia. Già nel 2022 l'Albania aveva chiesto la sua estradizione. Con la conclusione del processo a suo carico lo scorso aprile, la giustizia italiana adesso si è pronunciata. La difesa di Pecorelli ha chiesto un approfondimento istruttorio per verificare se le condizioni detentive in Albania siano rispettose del divieto di sottoposizione dei detenuti a trattamenti inumani e degradanti, cosa che impedirebbe l'esecuzione dell'estradizione. Gli avvocati nel loro intervento hanno tirato in ballo anche il caso di Larie Salis, detenuta in Ungheria. I legali, infine, hanno già annunciato che presenteranno ricorso in Cassazione. Il Tribunale della Riesame ha concesso il dissequestro richiesto invece dal legale di uno degli imprenditori coinvolti nell'operazione, volta al contrasto della produzione, gli articoli di abbigliamento fake portato a termine dalla Guardia di Finanza un mese fa. Nello specifico, l'imprenditore di origine cinese assistito dall'avvocato Santini sarebbe riuscito a dimostrare durante l'udienza quanto non era riuscito a fare in un primo momento, ossia avrebbe provato la licetà della propria condotta, essendo autorizzato a produrre capi per conto di noti brandilusso. E adesso il crack dell'ormai ex Banca Etruria. La Cassazione ieri ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ex presidente Fornasari che chiedeva un'ulteriore riduzione dell'entità della pena dopo il patteggiamento a tre anni e quattro mesi in appello e ha annullato senza rinvio per intervenuta prescrizione la sentenza d'appello che condannava Rossano Soldini, ex membro della CDA, ad otto mesi. Fornasari dovrà anche versare le spese legali della parte civile oltre a pagare una sanzione di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende. Ad ottobre invece sarà la Corte d'Appello di Firenze a valutare le 30 posizioni sulle quali la Tribunale Aretin aveva deciso per le assoluzioni. L'unico condannato fu infatti Alberto Rigotti. E adesso andiamo in Valdichiana. I carabinieri di Cortona hanno intensificato le attività di controllo del territorio nelle principali arterie della Valdichiana. Impegnati 16 militari dell'arma e 7 gazelle. Sono state identificate 112 persone, controllati 86 veicoli e contestate 5 contravenzioni al codice della strada e ritirate due patenti di guida per guida sotto l'influenza dell'alcol di sostanze stupefacenti. A Fogliano della Chiana invece è stato arrestato un 25enne perché è trovato in possesso di oltre 250 grammi di hashish droga che è stata ovviamente sequestrata. E adesso torniamo invece a parlare del cantiere. abbandonato di via Fabio Filzi sono iniziate proprio in queste ore le azioni di pulizia. Dopo lo svuotamento delle acque piovane qualcosa continua a muoversi nel cantiere ormai abbandonato di via Fabio Filzi. Sono infatti iniziate le operazioni di pulizia ma resta ancora lontana la realizzazione della sede della Polizia Municipale. I primi movimenti proprio in questi giorni per riportare un po' di ordine nel cantiere e restituire a breve i parcheggi lungo la strada. Sono state infatti chiuse alcune delle aperture con la rete arancione ma molte restano aperte permettendo l'ingresso a chi utilizza la struttura come dormitorio oppure come base per lo spaccio e il consumo di droga. Qualche piccolo passo è stato fatto, è giusto ridarci posti macchina però il problema del degrado rimane uguale. Io ti dico abitando qui vedo dei movimenti dentro questo stabile abbandonato impressionanti e come penso io finché non ci scappa la tragedia qui rimanerà tutto bloccato come ora. I cittadini nelle ultime settimane avevano presentato ben due esposti per chiedere la messa in sicurezza dell'aria. La struttura di proprietà della diocesi era stata acquistata da un raggruppamento di imprese con a capo un istituto bancario. Attraverso il leasing incostruendo la nuova proprietà si era legata al comune di Arezzo che alla fine dei lavori avrebbe avuto le chiavi in mano e avrebbe iniziato a pagare le rate sino a riscattarla definitivamente ma alcuni mesi dopo lo stop ai lavori era conseguente risoluzione del contratto per inadempienza a quella ditta esecutrice. L'amministrazione, come dichiarato dallo stesso primo cittadino in consiglio comunale sarebbe in attesa di un nuovo partner del settore edile in grado di subentrare prima però dovranno essere valutati gli aspetti legali e burocratici affinché si eviti di avere ricorsi al TAR ma al momento non ci sono novità. Il piano B sarebbe invece quello di una proposta d'acquisto del bene da parte dello stesso comune poi l'amministrazione potrebbe procedere con un bando pubblico per assegnare i lavori di completamento. C'è bisogno di un intervento? No, sarebbe il caso di portare a termine questo lavoro, questo cantiere per ridare anche un po' di dignità al quartiere. A Cortona, questo pomeriggio, il vicepremier, ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, l'incontro sotto le loggi del teatro Signorelli dove il leader leghista ha presentato il suo ultimo libro. La politica ci mette i soldi, ci mette l'energia, sblocca i cantieri poi sono i tecnici a dire qual è la soluzione tecnicamente migliore questo per una fermata dell'alta velocità, per una diga, per un ponte, per un'autostrada io faccio il ministro e sblocco i cantieri e trovo finanziamenti e poi sono i tecnici a dover decidere qual è la soluzione migliore la risposta arriverà a breve comunque. Così il ministro per le infrastrutture Matteo Salvini oggi a Cortona per presentare il suo libro Controvento rispondendo alle domande dei giornalisti sulla localizzazione della stazione ad alta velocità Medio Etruria. Salvini ha poi commentato anche le dichiarazioni rilasciate dal numero uno della Nato. Chi parla di nuove armi che vadano a colpire e a uccidere altrove è un pericolo noi l'Ucraina l'abbiamo difesa fin dal primo istante mandando aiuti militari aiuti economici, aiuti umanitari, accogliendo donne e bimbi in fuga alla guerra però pensare di mandare i nostri figli a morire in Ucraina o di usare le nostre armi per uccidere in Russia è una follia l'Italia non è in guerra contro nessuno, non voglio la terza guerra mondiale alle porte o questo signore che parla anche a nome mio perché se parla a nome della Nato parla a nome anche del popolo italiano chiede scusa o questo signore si dimette e fa da parte perché non puoi annunciare altre guerre, altri morti anche a nome del popolo italiano che non ti ha dato nessun mandato di andare a sparare, ad ammazzare in Russia. E infine ha commentato quanto sarebbe accaduto in una scuola media di Treviso Che qualcuno chieda di mettere fuori dalle classi l'inferno, il purgatorio, il paradiso perché offende qualcun altro e che ci sia dei professori che hanno il buon tempo di stargli dietro è follia, uno arriva in Italia, è il benvenuto, spalanchiamo le porte, offriamo scuola, casa, salute, lavoro, futuro però non è che possiamo essere noi a cambiare e non mi piace il crocifisso e togli la divina commedia e cambia le fiabe e cambia il Natale e chiudiamo le scuole per il Ramadan No, siamo in Italia, se a qualcuno non piace Dante, se a qualcuno non piace Gesù Bambino torna al suo paese tranquillamente e serenemente. Proseguono le iniziative messe in campo dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno in occasione della settimana della Bonifica Adesso una formazione pratica agli studenti di ingegneria civile ed ambientale All'impianto di recupero totale di San Zeno invece sono tornate le iniziative di zero spreco Un'ecosfera è il sistema naturale minimale, più piccolo che possa esistere La terra mantiene la vita da 3 miliardi di anni grazie a un equilibrio tra tutte le specie che sono presenti in natura All'interno dell'ecosfera ce ne sono soltanto tre ma riproducono esattamente gli stessi meccanismi che hanno consentito al mondo di prosperare fino ad oggi L'economia circolare è spiegata anche attraverso un'ecosfera protagonista delle giornate zero spreco all'impianto di recupero totale di San Zeno Valerio Rossi Albertini Basterebbe osservare le tre specie viventi all'interno dell'ecosfera per capire i principi dell'economia circolare e quali siano gli antidoti alla nostra distorta modalità di produrre beni e servizi Fisico e chimico, divulgatore ed esperto di questioni ambientali Valerio Rossi Albertini ha prima incontrato gli studenti della scuola e del territorio poi ha parlato di economia circolare con la città nella conferenza dal titolo Un gamberetto mostrerà la via Nel momento in cui accendo la torcia io emetto particelle di luce prima no, quando è spenta no quindi significa che le particelle di luce non esistono sempre Qui si fa scienza, meglio, qui si applica la tecnologia e la tecnologia è una derivazione della scienza quindi cerchiamo di tornare indietro cioè far capire come nascono queste tecnologie perché il perché di questi impianti e chi meglio di coloro che hanno realizzato le tecnologie cioè che fanno scienza ne posso parlare Per un ragazzo l'importante non è apprendere alcune nozioni ma riuscire a stimolare la curiosità, l'interesse perché tanto le cose che ho spiegato se le dimenticheranno ma forse si ricorderanno la sensazione che hanno provato e il piacere ad apprenderle La conferenza chiude la due giorni di zero spreco l'impianto di recupero totale ha infatti nuovamente aperto le porte agli studenti delle scuole della provincia di Arezzo collaboratori di teatro e corsi di cucina Perché è importantissimo che questo impianto e soprattutto cosa fa questo impianto venga conosciuto, divulgato in ogni modo possibile è importante perché quando i cittadini conoscono la relativa problematica ai rifiuti sono anche in grado di adottare tutta una serie di strategie che fanno diminuire la produzione dei rifiuti e ogni punto percentuale di diminuzione della produzione dei rifiuti è un qualcosa che poi va a ricadere in senso positivo in tariffa Noi oggi abbiamo utilizzato frutta e verdura li abbiamo centrifugati e il residuo della centrifuga viene utilizzato da loro in cucina Abbiamo fatto dei muffin utilizzando gli scarti delle carote abbiamo fatto degli iris che hanno pensato i ragazzi pensando appunto di riempirli con la ricotta però all'esterno è fatto con pane raffermo e mele A San Zeno dal Cile è anche arrivata la compagna di clown Festin della Risa Loro stanno usando materiale riciclato sono parte del riciclo e quindi con cose semplici riescono a far ridere e vivere la vita Dal Casentino una giovane studentessa alle finali dei giochi matematici di Milano Si tratta di Stella Chiarini della seconda B della scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo di Sochi Stella ha disputato i quarti di finale online per poi passare alle semifinali ad Arezzo a cui hanno partecipato 200 ragazzi e ragazze e qui si è classificata tra i primi 15 per le finali milanesi Ancora a Cortona, questa mattina il taglio del nastro per la seconda edizione della Cortona Comics in Valdichiana, grandi nomi del fumetto ma anche della musica Tutti pazzi per i fumetti al centro convegni Sant'Agostino di Cortona la seconda edizione di Cortona Comics Bellissimo, è fantastico io amo le fiere del fumetto, amo i fumetti e quindi è un sogno che la mia città di Cortona una città che io adoro, il posto dove sono cresciuta ha finalmente la sua fiera del fumetto con il Cortona Comics e non ci potevo essere l'anno scorso quindi sono più che felice di poter far presenza quest'anno e vedere la mia città coperta di bellissimi disegni Teresa Cherubini, la figlia di Lorenzo Cherubini giovanotti nella sua Cortona per la seconda edizione di Cortona Comics la giovane disegnatrice che ha già al suo attivo diversi lavori terrà un workshop di disegno per bambini e intanto si gode i lavori degli artisti in mostra il primo progetto importante ho fatto il libro insieme a mio padre La luce nei tuoi occhi che era il libro di fotografie che è uscito per il Jova Beach ho fatto un'introduzione a fumetti per quel progetto lì poi dopo ho lavorato per Panini con un fantastico progetto insieme alle associazioni dei donatori del sangue l'Avis, il CNS, tutto quel mondo lì per sensibilizzare le persone a donare il sangue questo è uscito a Lucca e poi di recente è uscito un progetto di collaborazione con Cristina Tardito Cristina T, che è un brand di Torino e lì ho fatto un fumetto dove ho illustrato le ragazze che si vestono nei vestiti meravigliosi che ha disegnato Cristina quello è uscito qualche settimana fa e settimana scorsa, il 14, invece è uscita una mia copertina per Salani per un romanzo francese che si chiama Il sangue della città In questa edizione, che si chiuderà il prossimo fine settimana e sarà dedicata, in quel caso, ai supereroi avrà nel mezzo l'atteso concerto di Achille Lauro, Alfa e Clara il premio alla carriera andrà a Fabio Celoni collaboratore delle più importanti case editrici una su tutte, la Disney Qual è, secondo lei, appunto il segreto di personaggi come questo che riescono ad attraversare, insomma, gli anni, le generazioni non essere mai banali? Questa è un po' una magia di Disney perché hanno una forza questi personaggi Topolino, Paperino, Paperone e via dicendo che pochi o quasi nessun altro personaggio ha nella storia Pensiamo al Paperone di Karl Barks che è un personaggio potentissimo o Topolino o Paperino stesso sono personaggi immortali che possono essere traslati in qualsiasi contesto quindi indossare qualsiasi abito o parodiare qualsiasi storia e rimangono sempre loro perché hanno delle caratteristiche molto importanti a livello proprio di costruzione del personaggio sono diventate delle icone Qual è l'emozione di far nascere un personaggio dalle proprie mani? È la stessa emozione che hai da bambino quando lo fai a sei anni e disegni per la pura gioia di disegnare e la cosa bella di questo lavoro è mantenere quella gioia e riuscire ancora a trasponderla nei tuoi disegni e credo che questa cosa poi, quando è sincera arriva anche a chi quei disegni poi li vede, li legge Adesso la pagina sportiva la MBC Servizi Scuola Baschetta Rezzo conferma con estrema soddisfazione il rinnovo del contratto anche per la stagione 2024-2025 di Facundo Toia che sarà ancora il faro della compagine Amaranto arrivato in punta di piedi da Falconara nel gennaio 2023 Toia in poco tempo si è fatto notare non solo come metronomo della squadra ma anche diventando una delle bandiere della squadra che ha divertito il pubblico aretino in queste ultime due stagioni questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci